e chi c'è da qua scarbaglio che ti dice che tanto scarbo non è funzionante e chi è sta cosa e questo è un gassetto da ciasi, non ricordo che questo è un gassetto da ora e non è già venuto niente, non c'è stato un gassetto ma che si è ma abbiamo un po' fuori da questa cosa perché non è già spesso per gli scontri tagliamoci che se si portano in un ufficio, ma no, con l'ambulanza, non si potrebbero accosti di nuovo c'è a sinistra, c'è a sinistra si, si, si